Musica Secondo me purtroppo ad oggi non abbiamo puntato molto sulla promozione della nostra isola la nostra isola è bellissima e si è promossa da sola io sono in Piazza Armerina e la Villa Romagna del Casale è diventata esplosa è diventata famosa nel mondo per una casualità nel 1950 viene aperto al pubblico vengono trovate lì delle fanciulle in bichini famose nel mondo e il New York Times scrive che il bichini non è un'invenzione dei francesi di quel periodo ma era già utilizzato dai romani ma noi non dobbiamo aspettare che i nostri beni culturali si promuovano da soli dobbiamo portare avanti la promozione della Sicilia come stiamo tentando di fare con i comuni bici destare interesse e diventare irrinunciabili nel Mediterraneo e in Europa per i flussi turistici che oggi più che mai possono richiedere la nostra destinazione non è un'invenzione